Grazie a tutti. Via web dei militanti a 5 stelle, c'è lo stop di Verhofstadt al ribaltone, niente garanzie, lo shock grillino, processo a Beppe e Casaleggio, questa è la notizia principale che troviamo un po'. Dappertutto ci dedichiamo ancora, in particolare sulle notizie che riguardano Roma, il caso Campidoglio, Marra resta in carcere perché è pericoloso. I consiglieri alla Raggi ora svela le chat per giudici Raffaele Marra ha legami che potrebbero ancora consentirgli di garantire favori, dunque hanno deciso che deve restare in carcere. I consiglieri chiedono alla Raggi di svelare il contenuto delle chat con Marra. La soluzione scontrini Marino non commise reati ma fu superficiale, la contabilizzazione delle spese di rappresentanza sarebbe stata gestita dallo staff di Marino. L'ex sindaco fu superficiale ma non c'è stato alcun reato, quindi per il caso scontrini questi sono i motivi della soluzione. L'addio a Bauman, lo scopritore dei valori liquidi, muore a 91 anni, il filosofo e sociologo nella città di Leeds. La mossa trasformista, la sconfitta personale delle leader, scrive Mario Aiello, operazione fallita, ovvero la più grande sconfitta di Beppe Grillo, l'uomo che ha lanciato il Waffa in politica, se lo vede restituito in maniera clamorosa e su scala internazionale dall'Europa. Non è riuscita la svolta trasformista del leader che ha tentato di passare repentinamente dall'euroscetticismo al figlio europeismo, restando con niente in mano. Non lo vogliono più i liberali dell'Alde con cui aveva appena stipulato il patto della conversione, non ha ottenuto i soldi, le poltrone e la centralità europarlamentare a cui mirava entrando in quel gruppo. non è stato capace di inserirsi nel quadro della politica tradizionale, che sognava di poter utilizzare al proprio scopo riassumibile in una vecchia rimetta del giurista Paolo Ungheri, chi contesta nel contesto fa carriera assai più lesto. Insomma, la furbata del patto con Vera Hofstad si è subito sfarinata e non resta Grillo come autoassoluzione, che attivare la solita denuncia del complotto, l'establishment ha deciso di fermare la nostra operazione. A centro pagina la fotonotizia dell'ospedale di Nola, malati curati per terra, sospesi i medici, ispezione dei carabinieri nell'ospedale senza lettighe. Ed ancora banche, il governo apre sulla lista dei grandi debitori, Palazzo Chigi, giusto rivelare i nomi degli insolventi. MPS e i dipendenti, però, ha vietato di fondere l'elenco, il governo apre all'ipotesi di rendere pubblico l'elenco dei grandi debitori insolventi di MPS per il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. La trasparenza sui grandi clienti che hanno contribuito a creare la voragine finanziaria che ha fondato Siena è corretta, anche se con le dovute accortezze giuridiche ci vorranno dieci giorni, al massimo due settimane, per vedere nascere la nuova norma. Accentrò in taglio basso la questione del freddo e le polemiche, aule come freezer, gli alunni romani rimandati a casa, bambini imbacuccati tra i banchi, come se dovessero partire per una gita in montagna, in aule gelide. Certo, l'ondata di freddo è stata eccezionale e ha chirurgicamente colpito proprio nel momento peggiore, il ponte tra l'Epifania e la domenica prima della riapertura delle scuole. Da Il Messaggero passiamo alla prima pagina del Tempo che pone l'accento sui senatori che lavorano tre ore al giorno, l'inchiesta, i dati dell'impegno in aula dei parlamentari, nel 2016 meno sedute e proposte, ma le ferie sono aumentate tra estate e Natale quasi due mesi, eppure c'è anche chi produce. Nel 2016 in media senatori e deputati hanno lavorato in assemblea solo quattro ore al giorno, circa cinque ore i deputati, tre ore i senatori, ma l'anno appena passato è stato anche quello meno proficuo di questa legislatura, sta sia in termini di sedute effettuate che di ore lavorate, poche proposte e poche norme approvate. Giusto le vacanze sono state lunghe, quasi due mesi tra periodo natalizio ed estivo, ma in Parlamento c'è anche chi produce molto e all'interno del tempo vengono fatti i nomi. Gianfranco Rotondi scrive, battiamo l'antipolitica, quanto lavora un onorevole? La furia antiparlamentare sta già nella domanda, ridurre la politica a un criterio quantitativo, già mostra una incomprensione nelle categorie della politica, ma tant'è, sono dieci anni che la stampa italiana crocifigge il Parlamento col consenso di chi lo rappresenta, vede a Boldrini che a forza di chiarezzare il pelo all'anticasta è divenuta una barzelletta. La domanda corretta è dove lavora il parlamentare? La risposta è ovunque, H24 senza pause, feste, legittime sospensioni, una sospensione me la ero concessa oggi più di un'ora e ho trovato sette chiamate che mi ordinavano la stesura di questo pezzo, già questo pezzo è il lavoro parlamentare come la cena che mi attende con una rappresentanza di onesti lavoratori che lo Stato tiene part time ormai da tempo in memore. È il lavoro parlamentare la guida di notte nel collegio elettorale, costata la vita a Gianni Panetta, a Buonanno e a tanti altri colleghi, è il lavoro parlamentare lo studio delle norme scritte da altri colleghi e quasi mai esonerate dalla necessità di correzioni, aggiustamenti, è il lavoro la cupezza della vita di partito, dei partiti di oggi dove all'adrenalina dei congressi si è sostituita la naftadina delle frasi fatte ma la lotta politica è uguale sempre. È il lavoro l'ascolto dei bisogni delle persone, le giornate in segreteria a consolare le affidizioni non potendo più offrire le soluzioni, è il lavoro anzi tensione indescrivibile, la fatica di nuotare negli equilibri sempre incerti e spesso preditori delle trame di partito. Quante ore dura tutto ciò? 24, senza sconti, come sa chi condivide il letto con un eletto del popolo che ha sempre il cellulare connesso e la testa occupata in un paese stroncato dalle leggi in cui l'esigenza è quella opposta, cioè delegificare, credetemi, il parlamentare più produttivo è quello che non aggiunge niente alla selva di norme che già ci sono. Questo è il pezzo in difesa dei politici dopo l'inchiesta del tempo. Indagini top secret a Roma, la caccia all'antiterrorismo è al centro pagina della fotonotizia che parla della cellula ISIS nel Lazio, poi si parla di Grill Exit, figuraccia europea di Beppe Grillo in nodo liberale ai 5 steli, la capitale dei brividi, grande freddo a scuola, bimbi a casa, ritorno in classe con il ghiaccio e poi la bomba del credito di Siena, il governo tira fuori nomi dei grandi debitori del monte dei Paschi, c'è poi in taglio basso aiutiamo l'artificiere ferito, ecco Liban dell'Agenzia Unicredit a Firenze è proprio nel titolo Liban di Mario Vece, il poliziotto artificiere è rimasto gravemente ferito la notte di Capodanno a Firenze dalla esposizione di un ordigno nei pressi di una libreria riconducibile a Casa Pound questa è l'iniziativa del tempo continuiamo con le notizie da Roma si parla dei bambini lasciati al freddo l'operazione scuola e al caldo fallisce un terzo degli istituti ancora nella morsa del gelo la polemica dei presidi contro il Campidoglio Raggi ha deciso tardi di accendere gli impianti, bastava organizzarsi e poi a centropagina il 15 luglio l'unica data italiana al concerto degli U2 all'Olimpico per i 30 anni di Joshua Tree sarà allo Stato Olimpico l'unica data nazionale del tour mondiale per celebrare i 30 anni dell'album Capolavoro degli U2 28 milioni di copie vendute un successo planetario che le portò in cima alle classifiche mondiali apriranno la serata i Noel Gallagher High Flying Birds altre notizie nessuna emergenza è inverno scrive Gianna Fregonara e poi ancora per ricostruire il palazzo crollato a Ponte Milvio servono 2,5 milioni in poco più di 6 ore superando le più ottimistiche previsioni è stato demolito il palazzo di Via della Farnesina parzialmente crollato nel settembre scorso per ricostruirlo è stato stimato un costo di 2,5 milioni di euro il tribunale resta in carcere il papà giocatore col figlio in auto non esca può rifarlo mano pesante del tribunale col Marco Pronesti arrestato per aver lasciato il figlio di 3 anni ed aspettarlo in macchina alle 3.40 del mattino nonostante la temperatura a meno 4 gradi mentre lui giocava alle slot l'uomo che ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato resterà in carcere e poi in taglio basso periferia a noi gli stessi fondi di Andria la capitale al 22esimo posto per finanziamenti statali come i piccoli comuni non abbiamo più tempo per la nostra rassegna vi ringraziamo per essere stati con noi e non ci resta che rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti